Charlotte, 40 anni, 75 kg, nata sotto il segno della bilancia, tra 24 settembre al 23 ottobre. Come sapevi, agli uomini hanno piaciuto le donne. In carne, in amore seduceva con facilità chi ti interessa. Ma attenzione alla salutava, i tuoi 40 anni si è fatti sentire, si è continuato ad accettare inviti a cena dai tuoi corteggiatori. L'algo della bilancia salvia sempre di più e doveva controllare meglio il tuo stato fisico. Quando venere sono transitata nel tuo segno, ti ha dato nuovi stimoli per curare il tuo aspetto. Sul lavoro i tuoi collaboratori sapevano apprezzare le tue capacità, ad accezione di quella tua collega giovanissima e magrissima. nenpelle